Ciao e benvenuto a consueto aggiornamento con l'analisi ciclica per quanto riguarda il Nasdaq e l'S&P 500 se è la prima volta che stai guardando le mie analisi benvenuto sul mio canale YouTube approfitta per mettere un like a questa video analisi e clicca sulla campanella per rimanere aggiornato con i miei live e le mie attività e ovviamente iscriviti al canale YouTube io sono un trader dal 2007, sono un esperto, anzi l'esperto in assoluto di analisi ciclica il più esperto in Italia di analisi ciclica e ho creato l'unico indicatore in grado di andare nel passato fare il calcolo automatico dei cicli, quindi non centrature o robe varie e proiettare nel futuro ciò che il mercato andrà su base statistica a fare quello che vedi è un'onda ciclica composta da soli due cicli, 20 settimane e 40 giorni una scelta che faccio per rendere più visibile per chi non è pratico di analisi ciclica le componenti previsionali perché possiamo andare a creare un'onda composta onda composta che diventa ovviamente più difficile da leggere per chi non è abituato all'analisi ciclica quindi andando ad isolare solamente cicli da 20 settimane e 40 giorni come puoi vedere diventa molto più facile andare a capire che cosa farà il mercato nei prossimi giorni capisco che la semplicità dell'indicatore possa non fare credere che vado solo ad aumentare sia veramente così preciso ma la verità invece è questa contare le candele è una cosa che si faceva 60 anni fa, quasi 70 anni fa ok, parliamo negli anni 50, quindi 70 anni fa esatto oggi la tecnologia permette quando si hanno gli strumenti e le conoscenze per poterli creare gli strumenti di creare qualcosa di automatico che quindi aiuti il trader a cancellare completamente quelle che sono, che è la discrezionalità e quindi basarsi veramente sulla statistica sui numeri. L'indicatore prevede un minimo del ciclo a 40 giorni per questo che vedi più o meno intorno alla data dell'8 di giugno e lo possiamo verificare andando a togliere il ciclo di 20 settimane e andando a isolare esclusivamente il ciclo da 40 giorni ho tracciato questa trendline del ciclo 40 giorni che è andata ad unire ovviamente questo minimo e questo minimo. Noi possiamo tracciare un'altra trendline rialzista perché come puoi vedere il posto minimo è stato inferiore al minimo precedente e non possiamo ancora tracciare quella attuale perché non è ancora confermato dall'algoritmo questo come minimo del ciclo da 40 giorni in formazione. Quindi l'unica trendline che abbiamo al momento da poter utilizzare è appunto quella che vediamo qua. In realtà abbiamo un'altra trendline del ciclo da 20 settimane che possiamo e andiamo a tracciare che è questa, quindi andiamo a cancellare questa qua perché ormai chiaramente quel ciclo a 20 settimane, ho cancellato quella sbagliata si è venuto a... è già finito ed è... si è creato un nuovo ciclo a 20 settimane e quindi lo andiamo a mettere qua con il colore che lo contraddistingue che è il verde chiaro, ossia il lime green. Ok, perfetto. Rimettiamo il nostro ciclo da 40 giorni. Perfetto. E facciamo un'analisi. Allora, prezzo sopra le medie mobili cicliche, quindi non possiamo andare a cercare indicazioni ribassiste per quanto riguarda questo ciclo da 40 giorni, ma attendiamo la data intorno chiaramente l'8 di giugno. Quale sarà il livello dove potremmo cercare delle indicazioni ribassiste? Beh, io direi che sarà il livello di 18.964, qui stiamo parlando del cash CFD. Ok? Andiamo anche a cercare di dare, di avere un'idea di quale potrebbe essere il target, qualora chiaramente il minimo per quanto riguarda il Nasdaq sia quello che si è venuto a verificare nella giornata di venerdì. Ovviamente nel momento in cui i minimi devessero cambiare, il minimo devessero cambiare, andremo a generare il target. Tp1 19.410, Tp2 20.166. Prima di andare avanti, non cancellare, non schippare questa analisi per cortesia, ti ricordo l'appuntamento di mercoledì 5 giugno alle 15.30, come sempre, trading su indici, materia prime e criptovalute. L'unico, anzi uno dei pochissimi che fa veramente trading dal vivo e non utilizza la parola trading live per poi fare soltanto analisi, un'ora e mezza, due ore di analisi dove in realtà non si fa assolutamente nulla per la paura di sbagliare. Il trader sbaglia, per fortuna nei nostri, nei miei live, sono poche le occasioni in cui l'operatività va a stop, però ciò accade. Oltre a trading, ovviamente si farà anche tanta formazione completamente gratuita. Mi raccomando, vai su il mio canale YouTube, vai su playlist, poi clicca su trading dal vivo oppure già nella home, in maniera molto semplice, vai sotto e trovi trading dal vivo, clicca su avvisami e verrai poi notificato dell'avvio del programma. Subito sotto troverai il corso dell'analisi ciclica gratuito, oltre 40 ore di formazione gratis, quindi non ti farò vedere un video per poi portarti sui miei corsi, perché il corso lo troverai qua completamente gratuito. E questa è la decisione che ho preso di letteralmente smantellare, demolire tutta la formazione a pagamento in Italia, ok? Mi segnaleranno il canale, me lo hanno già segnalato più di una volta perché infatti sta letteralmente morendo, tra l'altro vi avviso che sto aprendo un canale nuovo da zero, che trasfererò tutto quanto sul nuovo canale, me lo segnalerete e cercherete di distruggermelo, ne aprirò un altro fino a quando non vi arrenderete in Nencio, perché la formazione sarà completamente gratuita su ciclica, volume e price action, ok? Completamente grazie. Anche i corsi basi di analisi tecnica che non ha più logica, a mio avviso ormai pagarli 4, 500, 1000 euro, sarà tutto completamente gratuito sui miei canali YouTube. Velocemente sono Paolo Pisino, sono il fondatore del sito tradingpartutti.com, mi puoi trovare appunto sul sito, dal 2007 sono sui mercati finanziari. Ti invito a unire il canale Telegram gratuito, riceverai analisi gratuite su indici, forex, azioni, commodity e criptovalute, oltre che setup, intraday e multiday. Segnali intraday e multiday, indici, forex, materie prime, criptovalute, 49 euro al mese, 129 euro l'abbonamento trimestrale e poi il fiore all'occhiello, l'indicatore Volta, l'unico indicatore al mondo per le 24 e 25 che va nel passato, analizza i cicli temporali e li proietta nel futuro. Tu potrai isolare i cicli come vorrai, oppure utilizzare le metodologie da me inventate e quindi da me poi proposte a tutti coloro che utilizzano l'indicatore Volta, perché avrai anche accesso al canale Telegram gratuito. Tra l'altro c'è una novità, non l'ho ancora comunicato sul canale, farò prima un sondaggio per sapere se una cosa chiaramente la vorranno fare. quello che io volevo fare è aperto a tutti, ossia formazione live, ok, e in realtà cioè a parte tutti coloro che chiaramente volessero iscriversi alla formazione live tutti i giorni, quindi trading live tutti i giorni, lo riservo esclusivamente a chi utilizza l'indicatore Volta. Io ogni giorno sarò live, quindi con il mio zoom aperto, chiaramente non starò tre ore tutti i giorni, perché se non ci sono le condizioni per entrare al mercato, non è utile che stia lì a parlare da solo, ma nel momento in cui ci saranno le condizioni per poter, perché si possa venire a verificare una condizione per entrare al mercato, allora inizierà la fase formativa, dove spiegherò il perché questa condizione potrebbe generare un segnale e ovviamente se ci sarà l'occasione entrerò tranquillamente al mercato, come sempre faccio di abitudine. Quindi sarà qualcosa di eccezionale, però prima lo condividerò solo come sondaggio sul gruppo che sta utilizzando l'indicatore Volta. Torniamo noi, andiamo a vedere il nostro S&P500, S&P500, anche in questo caso onda ciclica composta dai cicli 20 settimane e 40 giorni, c'è un po' di differenza, ora innanzitutto questo ciclo da 40 giorni il mercato non l'ho ancora chiuso e mi fa un po' strano, mi fa un po' strano, durata 31 barre, ecco perché non l'ho ancora chiuso perché siamo arrivati a Capolina, cioè non può essere un ciclo più corto, questo probabilmente è un ciclo da 20 giorni esatto, come possiamo vedere è un ciclo da 20 giorni, quindi circa da 40 giorni e il mercato sostanzialmente lo ha chiuso in anticipo. Questo ci porta, andiamo a spostarci qui, ad essere ancora in una fase ribassista e non è la prima volta quest'anno, anzi spesso e volentieri capita che il Nasdaq e l'S&P500 siano in disaccordo da un punto di vista ciclico uno con l'altro, poi tendono a realinearsi come è venuto in questa fase, ma al momento l'S&P500 ci sta dicendo che dal punto di vista ciclico è una fase ribassista più o meno fino a 16 di giugno, anzi anche qualcosa di più. Ovviamente non possiamo prendere decisioni ribassiste perché il mercato è sopra alle medie immobili cicliche, quindi non si possono prendere ribassi, ma neanche andare a entrare al mercato a rialzo, perché da un punto di vista statistico siamo troppo in anticipo, bisognerà attendere quantomeno 6-7 anche 8 giorni per poter iniziare a valutare l'idea di posizionarsi a rialzo. Chiaramente il livello da utilizzare per eventuale ingresso razzista è 5352 cash CFD anche in questo caso, però avendo dalla nostra l'opportunità di vedere una fase ribassista dell'S&P sappiamo che 1 il prezzo dovrà andare sotto le medie immobili, 2 al momento il livello buono sarà ovviamente questo minimo. Non lo prendo in considerazione per quale motivo? Perché il prezzo è ancora sopra le medie, dovremo avere il prezzo sotto le medie per poter poi determinare quello che è il livello di supporto per poter eventualmente cercare un ribasso fino al successivo supporto. Quindi direi che per quanto riguarda questa analisi possiamo dire di avere finito, mi raccomando il like sul mio canale e sulla mia analisi, iscriviti al canale, cosa molto importante e ci vediamo tutti quanti insieme mercoledì per il solito appuntamento con Trading Live. Ciao ciao, buona settimana!